Ualikri, 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 ualikri stasera si va a ballare una pastiglia quale prendo acqua, acqua whisky, minchia che bellino che sono, mi ricordavo più magro, fammi guardare la tv, spegni, MTV, chiamiamo il 4G, allora devo andare in discoteca stanotte, sta arrivando Frank e mi passa a prendere lui, o devo passare io, non mi ricordo più, oppure, ah, chi, lui, oppure, ah, allora, se c'è il whisky da finire, da finire, vieni, passi tu, o passo io, passa lei, chi, chi è, non la conosco, mi piaceva la tv, link al video, la doccia dell'acqua, eccomi, sono arrivato dal mio amico, non mi ha fatto, oh, mi faccio la doccia, andiamo a ballare, Frank, Frank, riscalda la 131, guarda la macchina, guarda, mica, mi sballo, c'è una prima doccia al mondo fatta di prosecco, balliamo tutti insieme, alle, guardi, ora, spegniamo che ne consumo troppo, poi non ne rimane, una pastiglia per me, per te e per voi, mi guarda in tv, da solo, al mare, spegniamo, Frank, sei già arrivato, ah, Frank, ah, morca, ma hai fatto cadere, ok, in terra, eia, ne ho portato due t, non bastano, fammi chiamare 4-0, ho chiuso il telefono, ah, ah, è il mio, eh, vabbè, te lo cambiamo, vuoi la monumento nuova, a tre, a tre, a tre, per tre, allora, stai per morire, cosa hai da dire? Cos'è? Un chiambellino, generale Castor, guarda chi è, fuoco o fiamme, andiamo allora, se non ti prepari prima.